I giovani hanno la possibilità attraverso la storia dell'anti-racket, che è una storia che dura ancora oggi e continuerà sicuramente per molto, di capire effettivamente quanto è possibile fare nella nostra terra per migliorarla, perché si può fare. Nel senso che se effettivamente all'epoca non fosse stato sviluppato questo movimento, oggi i giovani avrebbero trovato una società nettamente peggiore. Il pericolo dell'inquinamento delle istituzioni e anche delle stesse associazioni anti-racket nasce da fatto dalla pericolosità dell'associazione criminale di tipo mafioso. La criminalità comune si distingue rispetto alla società civile, la mafia tende ad infiltrarsi, ad inquinare, quindi l'importante dell'azione che è stata fatta dall'associazione anti-racket e dal movimento anti-racket è stato quello di mantenersi indenne da questo inquinamento, ha avuto la capacità di capire, di pensare più alla qualità che alla quantità degli associati. Attorno a queste tematiche non bisogna mai fermarsi, sono passati 27 anni, si sono raggiunti traguardi importanti, voglio dire. Abbiamo, come diceva Tano, scritto una bella pagina di storia moderna, però ancora c'è tanto da fare, perché è una storia lunga, credo, nessuno si può pensare di dire che la battaglia alla mafia è stata vinta, no, l'hanno detto in passato tante volte e tante volte si sono sbagliati.